A lui, a lui in cella, a lui in cella No, al ritorno quello ti attacco dietro, Renato Ti attacco quello al ritorno dietro Ehi, Tico, vieni a aspettare un po' Sto cento, non facciamo curiare sto cento Ora che quello col cinquantino è ancora... E' rimasto giù quello col cinquantino Nooo E' diventato Non fai niente, non fai niente, non fai niente Non fai niente, non fai niente Grazie a tutti.